Il vostro amore mi commuove, ed io vi amo, vi amo tutte. Pregate, pregate sempre, e non vi disperdete. Io sarò sempre il vostro pastore. Carissimo e venerato padre, mi chiedete perché giro sempre attorno al convento. Lo faccio per sentirvi più vicino. Se mio padre fosse in prigione, io girerei tutto il giorno attorno al suo carcere. Padre, ho guardato a lungo la finestrella che conduce alle celle, nella speranza di potervi rivedere. Mi chiedo se è peccato aver bisogno di voi. Mentre voi state nel cuore a pregare, io sono in soffitta, da dove posso vedere il convento. Vi tengo compagnia, pregando per voi. Mia sempre più diletta figliola, la tua fedeltà mi è di grande conforto. Anch'io come te, mi sono più volte domandato se scriverti. È peccato. Ho chiesto al Signore di darmi una risposta. Ormai gli imperiscono tutto. Sta' come un recluso. In chiesa da mesi non ci va più nessuno. Tutti i gruppi di preghiera si stanno sciogliendo. Hanno distrutto tutto. Grazie.